Il messaggio gira sulle baccheche Facebook dei lecchesi. Importante, recita il posto condiviso da centinaia di persone. C'è un bastardo che viaggia a piedi zona pescarenico che si intrufola nelle macchine ferme in colonna o ai semafori. Dopodiché intima l'autista di farsi accompagnare in una tale zona e lo rapina. Vittime preferite le donne, quindi chiudersi in macchina. Una bufala? Purtroppo no, confermano i carabinieri della compagnia di Lecco. I fatti hanno fondamento. Due episodi denunciati a distanza di qualche giorno l'uno dall'altro nel rione cittadino dove peraltro sede proprio il comando provinciale dell'arma. Un uomo, con tutta probabilità di nazionalità italiana, hanno raccontato le vittime ai militari. È entrato all'improvviso all'interno delle loro vetture ferme in strada e con la minaccia, ma apparentemente senza armi, si è fatto consegnare soldi e oggetti di valore prima di darsi alla fuga. In corso le indagini dei carabinieri per identificare nel più breve tempo possibile il malfattore. La vicenda sta generando comprensibile allarme in città. Nel frattempo il consiglio dei militari dell'arma è di chiudere con la sicura gli sportelli dell'automobile, almeno quando il veicolo è fermo, impedendo così all'uomo di salire a bordo per mettere a segno i propri colpi.